Ciao ragazzi, come state amici miei? Allora, vi dico, oggi proviamo uno di questi giocatori che ragazzi, no, ragazzi, no, ragazzo, smalling flashback, mi chitariamo, vabbè, lo vorrò qua. Oh, smalling, attendi fisico, ma smalling, ragazzi, smalling, ti provo pure il tiro, smalling, niente, non ce l'ha presa, vabbè, qui, destra, non è il tuo ruolo stavolta, quindi vediamo un po', niente, aspetta, non c'è ancora lui, vediamo, dove lo marco un po', boom, vabbè ragazzi, che non mi contrasti, ragazzi, me lo immaginavo comunque, è enorme, vediamo un po', niente, se lui di testa, vabbè, niente, vabbè, va niente, va niente, ora, l'ultimo, eh, lo battiamo proprio con lui, smalling, non so sincero quanto abbia di calcio di rigore, eh, sincero, non ho ne ho idea, ma, eh, malissimo, ragazzi, mi ha messo proprio male, voglio, i ragazzi, però, ti dargli una scanna, però, morì con una scanna, qui, arrivo con una scanna, e niente, parata, vabbè, vissà, non è che è tantissimo qualcosa, perfetto, ho capito che voglio, mi devo dirti, smalling, ho paura, perché lui, ha morto schifo, però, si, do di, smalling, ragazzi, di tiro, e vabbè ragazzi, lui, manca che si affia la porta, madonna mia, mi ha spallato, sto qua, è volato, su ruolo, qui l'hanno smarcato, però, ancora lui, piedone, madonna, ragazzi, lui allunga il piedone e più del suo corpo, veramente, allunga più del suo corpo, ancora smalling, gigante colossale, boom, smalling, perfetto, ti proviamo pure nella velocità, smalling, manco fallo, ho fatto pure la parla, bravo smalling, io di smalling, subito, allora, vi dico, smalling, e niente, adesso oggi non so fare niente, smalling, allora, la velocità, velocità 64, velocità, vero, si sta, è vera, la velocità è vera, che la quale è lui che è alto, 1,94, quindi, veramente, veramente, veramente grosso, tiro, vabbè ragazzi, inguardabile, tiro proprio inguardabile, vabbè, si sta, il passaggio, con un normale passaggio, con un diventore, il dribbling, è vera, il dribbling, forse solo la reattività, quindi, è mo che, non è proprio tranquissimo, però, comunque, il dribbling è un diventore, quindi, difesa, vabbè ragazzi, difesa, non si è niente a dire, la difesa è fortissima, è anche di più di 87, secondo me, va pure via, anche a 90, perché, se arriva la palla addosso, e fa un contrasto, non mancherà mai la palla, cioè, ma proprio la spazza, da 3 km di distanza, il fisico, lui, colossale, il fisico, lui, non lo ha buttato mai a terra, gigantesco, il bordo che gli do, 7,5 barra 8, può essere anche, anche qualità prezzo, è anche per il link, linkadissimo, inglese, serie A, quindi può essere anche linkato, con altre squadre, non siamo so serie A, e poi, questo è veramente poco, ragazzi, 120 in agredit, pochissimo, è un diversore come lui, in SBC ovviamente, quindi vabbè ragazzi, ci vediamo, in live, vabbè, in live, vabbè, in tira dopo la live, questo video, vabbè, e se volete, artere più, così, è l'attato un like, ci vediamo, belli, Sì,